Stanno arrivando le bollette per quanto riguarda la tassa sui rifiuti anno 2015. Si sta creando un po' di confusione perché alcuni dicono l'anno scorso erano quattro, adesso sono tre dello stesso importo, come mai si paga di più? Spieghiamo un po'. Al momento le rate che stanno arrivando ai cittadini sono lo stesso importo dell'anno scorso diviso in tre rate. Di solito è la stessa procedura che abbiamo seguito anche l'anno scorso. La quarta rata è sempre una rata di conguaglio. L'anno scorso questa rata era già individuata una scadenza, che era il mese di dicembre. Invece quest'anno sulla bolletta è indicato che l'eventuale quarta rata sarà inserita nella prima rata del 2016. I cittadini devono stare tranquilli perché sempre sulla bolletta è indicato che entro sette giorni dalla scadenza si è sempre nei termini, dal ricevimento si è sempre nei termini. Infatti la scadenza che è quella superata ormai dalla fine del mese di maggio, qualora un cittadino ricevesse oggi una bolletta, ha un tempo sette giorni per andarla a pagare. È la stessa cosa se la dovesse ricevere la prossima settimana e così via. Quindi tornando agli importi si paga ugualmente come l'anno scorso? La cifra è la stessa dell'anno scorso. Se qualcuno dovesse riscontrare le differenze sono da debitare al fatto che magari il nucleo familiare è cambiato. Nel senso che siccome la bolletta della tassa sui rifiuti adesso è anche proporzionata al numero dei componenti del nucleo familiare, quindi chi risiede sull'immobile, è possibile che se è uscito un componente la tassa sia inferiore. Se è entrato un componente la tassa sia superiore, perché i dati per fare le bollette vengono presi direttamente dall'anagrafe all'1 gennaio.